Ma che c'è per pranzo? Merlussa e fagiolini Capirai di tutta vita E tu che c'hai? Io la carbonara vegetariana Mmm palato fino La carbonara vegetariana Ma lo vuoi capire che sei tu quello che deve perdere peso? Non io Io devo solo iniziare a mangiare bene Quindi la mia nutrizionista mi ha detto che anziché la carbonara col guanciale Lo devo fare con la zucchina Anziché 120 grammi di pasta 70 grammi Punto Ma io devo solo imparare a mangiare bene E la dottoressa ti ha detto pure di finire in barattolo da un chilo di cioccolata Quello è per il ciclo Lo capisci o no? Che è per il ciclo quello Oh